Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Renimax. A cosa serve? Renimax ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere dell'apparato urogenitale. È commercializzato in Italia dall'azienda Pharma Suisse Laboratories SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Pharma Suisse Laboratories SRL. Concessionario. Pharma Suisse Laboratories SRL. Categoria di appartenenza. Integratori per il benessere dell'apparato urogenitale. Confezioni. Renimax 30 busti da 4600 mg, 138 g. Indicazioni per favorire la fisiologica funzionalità della prostata. Modalità d'uso. Si consiglia l'assunzione di una bustina al giorno, sciolta in un bicchiere di acqua. Descrizione e caratteristiche. Integratore alimentare a base di citrati di magnesio e potassio e di fillanto, utile in caso di aumentato fabbisogno o ridotto apporto con la dieta di tali nutrienti. Il fillanto può essere utile per la funzionalità dell'apparato urinario. Avvertenze. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e vanno utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Allergeni. Senza glutine. Ingredienti. Citrato di potassio. Edulcoranti. Sorbitolo. Sucralosio. Maltodestrine. Citrato di magnesio. Correttore di acidità. Acido citrico. Aromi. Fillanto. S. Fillanto. Snirurielle. Erba. TIT. 15% tannini. Supporto. Maltodestrine. Colorante. E162. Agente anti-agglomerante. Biossido di silicio. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.